Dario Bond, fratelli d'Italia, ma è stato in Forza Italia, quindi il ricordo di Silvio Berlusconi, lo chiediamo anche a lui, naturalmente lui se ne è andato da Forza Italia all'epoca anche in modo molto polemico, ma è stato uno dei fondatori di Forza Italia in Veneto, vicino al grande e storico presidente, che cosa vuole dire Bond, che cosa ricorda di lui, quali sono le cose che non possiamo dimenticare? Non possiamo dimenticare tre aspetti, il primo l'aspetto umano della persona, quando lo incontravi ti chiedeva sempre qualcosa di tuo personale, come stavi o come andava a casa o come andava al lavoro e poi alla fine ti salutava mettendoti il palmo della mano sul braccio, l'avambraccio in generale, di solito tenendotelo e dandoti un consiglio. E questa è una cosa bella, perché significa anche caricare le persone, dare forza, dare energia. Il secondo aspetto, quando veniva in Veneto voleva sempre capire da più parti, da più fonti, quindi parlava con tante persone, tra cui il sottoscritto, come andava l'attività, le attività diciamo degli imprenditori, che problemi c'erano, la viabilità, tutti i problemi che la regione poteva avere. E anche su questo devo dire, cercava in qualche maniera di fare sintesi, a fine di una giornata, di una giornata intensa, magari di incontri, ci si trovava in pochi e si elencavano le priorità, 3, 4. Era diventato una sorta di pensatoio il suo girare per l'Italia. La terza cosa, la ricordo nel 2018, anzi nel 2017, era ottobre, novembre del 2017, quando fui chiamato nella specie di officina delle idee a Milano per portare il mio contributo e mi venne vicino e mi disse dobbiamo pensare delle cose semplici, non articolate, non difficili, ma che in qualche maniera possono aiutare le persone, la gente. Lui aveva una fissa, aveva la fissa degli anziani, delle persone che stavano male, delle persone che erano in difficoltà, aveva proprio questa fissa qua, ma dal semplice problema di vita quotidiana dell'anziano alla residenzialità di questi, alle RSA e la situazione che abbiamo avuto della pandemia l'ha toccato fortissimamente. Insomma, una persona molto umana lei si ricorda. Io ricordo proprio una fase umana del presidente, poi ricordo anche delle cose belle, quando l'ho conosciuto per la prima volta, mi fece, la prima cosa che mi chiese era la mia appartenenza calcistica, io gli ho detto milanista, sempre con il cuore a rosso nero. E lui mi dice, guarda, qua ci sono Gagliardetti, penne, orologi e anche distintivi. Scegli quello che vuoi, perché un milanista bisogna trattarlo bene. E poi alla fine mi disse, salutandomi, mi ricordo a Villa Certosa, su quel piazzale, quel bellissimo piazzale della Villa, mi disse, sai che assomiglia a qualcuno del milan. E gli ho detto, ma no, ma sì, io sapevo dove voleva arrivare. Ma noi lo sappiamo. Tu assomigli al mio stopper, che si chiama Stam. Stam. È un po' cattivo, ma molto, molto duro. Ce lo ricordiamo. Fa anche te così politica. Beh, vogliamo ricordare Silvio Berlusconi anche con questa simpatia che è descritta da Dario Bond di Fratelli d'Italia. Adesso è in Fratelli d'Italia, ma è stato molto vicino al presidente Berlusconi. Grazie per essere stato con noi a TG Plus Focus. Buona giornata. Grazie di cuore.